Sì, sì, sì. sono i voli, che si riuscì tutti i raggiungono, ma non sono i voli, sono i voli, sono i voli, non sono i voli, e quindi non sono i voli, ma che si fa bene, se vedevamo i voli. per la via! Vim, come su su se? F22 Raptor. Grazie a tutti Grazie a tutti